Nicolai Semenov, amministratore delegato di Nacinbio, National Immunological Company del gruppo Rostec, e Marialina Marcucci, membro del Consiglio di Amministrazione di Kedrion Biofarma e Chairman di Sestant Internazionale S.P.A., che di Kedrion detiene la maggioranza, hanno sottoscritto un accordo di joint venture che vedrà l'azienda di Castelvecchio Pascoli impegnata nel progetto per il rilancio dell'impianto russo di Kirov per la produzione di farmaci derivati dal plasma. L'accordo tra le due aziende è stato siglato in Russia in una delle sessioni del Forum Internazionale di San Pietroburgo, la conferenza annuale dedicata alle questioni economiche e commerciali in cui l'Italia era ospite d'onore e che ha visto il premier Matteo Renzi incontrare anche Vladimir Putin. L'intesa siglata prevede che l'impianto divenga operativo nel 2019, quando è previsto il completamento dei lavori di ristrutturazione dello stabilimento, dell'installazione dei nuovi apparati per la produzione e di tutte le attività comprese nel trasferimento di esperienza, competenze e tecnologie da Kedrion a Nacin Bio. Attualmente nel campo degli emoderivati la Russia dipende per oltre il 90% dall'estero. Nel 2019 invece, a completamento avvenuto, l'impianto di Kirov sarà in grado di processare 600 tonnellate di plasma all'anno, ha spiegato Nikolai Semenov, con Kirov a pieno regime, il sistema sanitario della federazione russa sarà in grado di soddisfare la domanda interna. Per la prima volta, nel nostro paese, ha detto Semenov, potremo gestire l'intero ciclo di produzione dei plasma derivati, in linea con i più alti standard del settore. Lo stabilimento produttivo di Kirov è di importanza strategica per il programma sanitario russo, che attualmente dipende moltissimo dall'importazione di sangue e i suoi derivati per la cura dell'emofilia e dei pazienti oncologici e anche per la chirurgia. Su Kirov investiremo, ha detto Semenov, circa 4 miliardi di lubri. L'accordo sottoscritto prevede una partnership di grande rilievo per Kedrion Bio Farma, ha dichiarato Paolo Marcucci, e aggiunge un ulteriore tassello ai nostri programmi di crescita internazionale. Il mercato della federazione russa rappresenta una straordinaria opportunità. Il programma di autosufficienza nazionale dei farmaci salvavita, recentemente avviato, che vede il nostro futuro partner nasce in bio tra i protagonisti, contribuirà infatti ad estendere l'accesso alle cure per i pazienti.